Tutela del territorio, dell'ambiente e della sicurezza dei cittadini. Sono questi gli obiettivi del regolamento di polizia rurale adottato dal Comune di Fano che ha deciso di sensibilizzare ed educare gli agricoltori al rispetto delle buone pratiche di manutenzione dei fondi e di conservazione del suolo. Ad esempio per quanto riguarda la distanza di aratura dalle strade che se non rispettata può provocare danni alla regimazione delle acque e di conseguenza creare dissesti o frane. Con questo regolamento si introducono delle norme sanzionatorie proprio per queste condotte che devono essere in qualche maniera modificate, recuperate badando però che l'importo basso delle sanzioni anticipa comunque una rilevanza sul piano dei contributi perché chi partecipa al regime di condizionalità ai sensi del PSR e del regolamento del 2003 di fatto rischia di vedersi decurtati i contributi proprio perché non ha osservato le buone pratiche agricole e certificato attraverso le sanzioni del Corpo Forestale dello Stato o della Polizia Municipale. E se le regole non vengono rispettate si rischia anche di vanificare gli interventi eseguiti dal Consorzio di Bonifica l'ente pubblico economico che ha il compito di salvaguardare il suolo e le zone umide dal dissesto idrogeologico. Se noi ad esempio leviamo delle ostruzioni all'interno di un alveo, ripristiniamo le sponde e poi comunque viene ugualmente arato fino all'argine, parte si indebolisce la sponda, può cedere e quindi viene praticamente annullato l'intervento cioè si ritorna alla stessa gestione, alle stesse problematiche. Per informare e diffondere le buone pratiche ai cittadini sono stati organizzati quattro incontri dislocati in varie frazioni del territorio comunale in collaborazione del Corpo Forestale dello Stato e del Consorzio di Bonifica ma anche dei vigili urbani e delle associazioni di categoria. Il primo si svolgerà venerdì 13 maggio nell'ex scuola elementare di Caminate, il secondo il 16 maggio a Casa Beclam in via San Cesario a Carrara per poi proseguire giovedì 19 all'Acli di Sant'Andrea in Villis e lunedì 23 al Falcineto Park, ex Biricocco. Tutti gli appuntamenti avranno inizio alle ore 20 e 30. Ovviamente cerchiamo la collaborazione degli agricoltori perché loro insieme a noi possono gestire meglio questo territorio e inoltre il Comune farà la sua parte perché ovviamente oltre a chiedere la disponibilità, l'impegno di chi gestisce il territorio, oltre a divulgare queste norme, noi come Comune di Fanno investiremo 170 mila euro per i fossi di nostra competenza affinché questo territorio migliori davvero, affinché non accadono più danni, problemi dovuti alla reggimentazione delle acque che in questi ultimi anni purtroppo, anche a causa di una scarsa manutenzione, sono avvenuti diffusamente in tutto il territorio fanese.